Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Thailandia, facciamo un altro video di aggiornamento per quanto riguarda le notizie che arrivano da Thailandia, come sempre tema generale sulla Thailandia, turismo e molto altro. In questo nuovo aggiornamento appunto di questa domenica mattina, intanto come sempre quella che vedete a schermo ragazzi la playlist Thailandia del mio canale YouTube, ci sono tanti video aggiornati, come sempre consiglio quello di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto, ovviamente di lasciare anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Innanzitutto diciamo subito che il numero di casi covid in Thailandia è sempre molto basso, 2378 casi, in alcuni paesi si sta verificando un aumento dei casi, probabilmente semplicemente dovuto all'aumentata mobilità delle persone, però niente di preoccupante, quello è la stessa cosa che sta accadendo in Thailandia, ma insomma non vedo particolari preoccupazioni. Andiamo avanti nell'aggiornamento di oggi, qualcuno di voi mi segnalava che le novità per quanto riguarda l'apertura della Thailandia non sono ancora caricate su Viaggiare Sicuri, giustamente chi si muove vuole leggere anche in italiano tutte quelle che sono le normative pubblicate dal governo thailandese sulla riapertura. Le andiamo a ricapitolare perché la TIT, l'ente del turismo thailandese le ha riproposte in aggiornamento, quindi andiamo a vederle. Fondamentalmente non c'è più il Thailand Pass, è stato tolto anche l'obbligo di polizia sanitaria in copertura covid fino a 10 mila dollari, polizia che comunque rimane sempre consigliata per chi va in Thailandia. Dopodiché per quanto riguarda i vaccinati serve avere a disposizione comunque la prova della certificazione vaccinale, mentre per chi non è vaccinato il tampone è da effettuare entro le 72 ore, tampone che deve essere, viene detto pro professional, quindi deve avere un referto in inglese, probabilmente in Italia è più comodo fare il tampone PCR, ovviamente valutati anche in base ai laboratori che avete vicino a casa vostra. Per quanto riguarda poi il resto, insomma i ragazzi, insomma chi non è vaccinato a seguire le regole del genitore, insomma questo è un pochino il discorso importante, c'è ancora pending il discorso dell'eventuale estensione del visa extension da 30 a 45 giorni, su questa cosa ancora non ci sono aggiornamenti, almeno a me non risultano ancora aggiornamenti. Dicevamo quindi perché su Viaggiare Sicuri non c'è ancora l'aggiornamento è perché Viaggiare Sicuri aggiora sempre un pochino dopo e solo quando le norme entrano in vigore, quindi mi aspetto che questi aggiornamenti che abbiamo visto appunto qui dalla pagina dell'entra del turismo tailandese, li vedremo disponibili appunto su Viaggiare Sicuri in ridosso della data, quindi del primo luglio, quindi aspettiamocela appunto nei prossimi giorni con tutti i passaggi, insomma e giustamente ripeto qualcuno di voi mi ha segnato questa cosa. Ovviamente sappiamo che gli aggiornamenti che abbiamo dato sono assolutamente corretti perché ci siamo ottenuti tutte quelle che sono le fonti a wood organ del governo tailandese e sicuramente le troveremo anche tra pochi giorni sulla pagina di Viaggiare Sicuri. C'è poi un altro aggiornamento interessante per quanto riguarda Thailandia e secondo me è importante farlo perché poi ha un impatto diretto anche su chi va in Thailandia e andiamo a vedere che fortunatamente il tasso di cambio Euro-Thai Bat si sta muovendo in maniera positiva, oggi quota 37.42 ed è un valore sicuramente positivo, vediamo effettivamente che si è mosso il cambio, metà giugno eravamo a 36.41, oggi siamo a 37.42, se lo vediamo graficamente effettivamente nell'anno vediamo come a marzo eravamo di ottimo scese a 35.71, l'anno scorso aveva fatto lo stesso movimento, insomma a partire da giugno si era un po' alzato dell'arrivato fino ai 39 di agosto, vedremo se anche quest'anno, lo vediamo meglio appunto in questo piccolo grafico, vedremo se anche quest'anno magari il tasso di cambio riuscirà a superare quella quota di 39 e magari tornare insomma alla quota 40, insomma che sarebbe comunque importante, quota 40 che manca veramente da tanto tempo perché questo picco arriva a 39-36, per avere un 40 probabilmente bisogna tornare ancora qui indietro nel tempo, quindi il tasso di cambio che comunque insomma è un pochino più favorevole, questo è importante visto l'aumento dei prezzi che abbiamo visto generalizzato in tutti i paesi, anche in Thailandia e soprattutto anche per i prezzi dei voli appunto da affrontare per chi vuole poi comprarsi il volo in particolare dall'Italia fino alla Thailandia, per quanto riguarda e di questa cosa dei prezzi dei voli ne ho parlato in questo video, Thailandia, prezzi dei voli e le stelle, se ancora non l'hai fatto te lo lascio qui in alto, mi raccomando guardalo e commentalo, per quanto riguarda poi il, siccome nei giorni scorsi abbiamo parlato poi dei voli, alcuni di voi mi avete chiesto come valutare una compagnia aerea, in realtà la cosa più semplice è provarla, ma ci sono anche dei metodi bioggettivi e vi propongo questo sito che è Skytrax, che è il sito ufficiale di fatto del tracking, delle valutazioni delle compagnie aeree, qui potete di fatto filtrare le compagnie aeree per 5 star, 4 star in base alle recensioni di chi ci vola, quindi sono recensioni da chi la provate e potete insomma fare delle valutazioni, leggere i commenti, io l'ho trovato sempre devo dire molto utile posto che tendo comunque in generale a privilegiare o comunque utilizzare compagnie che ho utilizzato in passato, con cui mi sono trovato molto bene, quindi comunque questo sito ve lo lascio qui in descrizione e potete guardarlo, insomma fare qualche valutazione anche voi su eventualmente che compagnia state utilizzando o che compagnia volete utilizzare appunto per volare in questo caso sulla rotta dall'Italia alla Thailandia. Ovviamente ragazzi come sempre aspettiamo quindi nei prossimi giorni l'aggiornamento di Viaggiare Sicuri e secondo me aspettiamoci anche magari l'aggiornamento per quanto riguarda il V-Exemption, tanti di voi mi avete scritto che anche secondo voi insomma un viaggio più lungo è meglio rispetto a un viaggio molto corto considerando anche i costi per arrivare in Thailandia e vedremo appunto se la Thailandia darà poi seguito a questa cosa dei 45 giorni di permesso di entrare nel paese senza visto. Ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate soprattutto a riguardo innanzitutto il tasso di cambio, se anche per voi sarebbe giustamente importante fatemi sapere anche se poi date un'occhiata al sito di Skytrax per le recensioni delle compagnie aeree, scrivetemelo come sempre qui sotto nei commenti di modo tale che poi io rispondendo possiamo andare avanti nella conversazione sotto il video. Direi quindi ragazzi come sempre grazie per aver visto il video fino adesso, come sempre mi raccomando se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale, tra l'altro è molto probabile che questa settimana, dobbiamo decidere ancora al giorno, ma faremo sicuramente una live tema Thailandia sul canale quindi a breve insomma mando l'appuntamento e se ci siete siete sempre ben accetti e come sempre mi raccomando anche un bel like a questo video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Direi quindi come sempre ragazzi grazie, ci sentiamo come sempre nelle prossime giornate con nuovi aggiornamenti, un abbraccio e a presto.